scuola secondaria di secondo grado, il primo classificato è il liceo artistico statale Caravaggio di Milano, il sito è pienamente conforme ai requisiti minimi e ricco di contenuti e materiali del web 2.0 che permettono condivisione di risorse e alti livelli di scambio e collaborazione tra docenti ed alunni, sarebbe a dire che gli alunni si scambiano i compiti, io faccio greco tu fai latino, io faccio matematica tu fai inglese, grazie, ritira il premio Luciano Vecchio, referente del progetto, non ho gli altri vostri nomi ma comunque i complimenti sono d'obbligo, grazie a voi, anche voi riceverete il tablet, il ricco kit di accessori e l'IM essendo arrivati i primi nella vostra categoria.